Ciao a tutti, io sono Giovanni Lerda, un ormai ex studente dell'IpsMath di Cuneo, diplomato nel lontano 2019 e sono qui per raccontarvi brevemente la mia esperienza all'interno di questo istituto, il quale mi ha cresciuto, mi ha dato tantissime competenze, conoscenze che tuttora applico all'interno del mondo del lavoro e durante il mio percorso di studi. Durante questo percorso all'interno dell'IpsMath ho ricoperto ruoli comunque anche importanti per uno studente dai quali ho imparato davvero tantissimo, mi ha dato, mi ha passato una passione per ciò che è la tecnologia, la meccatronica, il mondo dell'industria che applico tuttora e che cerco di trasformare in una vera e propria realtà lavorativa personale e di questo ne sono davvero molto fiero. Una volta terminato il mio percorso di studi all'interno di questa scuola ho avuto subito la possibilità di entrare all'interno del mondo del lavoro, ricoprendo comunque il ruolo di tecnico ma soprattutto la cosa importante all'estero. Infatti ho passato dei mesi in Francia e ho provato questa esperienza lavorativa dalla quale ho imparato davvero tantissimo e che mi è tornata davvero utile per le attuali esperienze che sto vivendo. Una volta terminato questa esperienza lavorativa ho proseguito i miei studi a Torino all'interno di un istituto che forma meccatronici per poter diventare un tecnico superiore meccatronico e allo stesso tempo attualmente sto lavorando come progettista software di software industriali affrontati anche durante il percorso di studi all'Ipsmat ed è un lavoro che mi piace davvero tantissimo era ciò che cercavo di raggiungere ormai dalla seconda superiore era ciò che cercavo di fare e tuttora cerco di crescere sempre di più grazie proprio a queste competenze, le conoscenze che ho acquisito durante gli anni a questa passione che mi è stata passata dai miei professori e spero che anche per i prossimi che sceglieranno questo istituto potrà essere simile, potranno vivere un percorso simile al mio perché ne saranno davvero molto molto fieri e saranno poi grati a questo istituto perché potrà dare davvero tantissimo e vi potrà far crescere davvero molto quindi consiglio assolutamente la scuola consiglio di impegnarsi, di studiare e di darci dentro perché può cambiare letteralmente il percorso della vostra vita quindi ve la consiglio e mi raccomando dateci dentro e buona fortuna